Grazie a Tibargoletti, la donna che ha denunciato di essere costretta a dormire all'aperto su una panchina per poter prendere servizio alle 5.30 negli uffici della motorizzazione civile di Cosenza dove lavora per una ditta che si occupa di pulizie, la Lab Service, non è stata abbandonata. Lo ha puntualizzato l'azienda che ha ritenuto di essere andata incontro alle esigenze della dipendente. L'interlocuzione con le organizzazioni sindacali è continua e proficua e non sono mai state registrate criticità o momenti di attrito dalle parti, sottolinea la Lab Service. Assolutamente perché, da come potremmo dimostrare, noi siamo appaltatori del servizio solo dall'agosto del 2019, quindi è una situazione che risale non a un anno fa perché non eravamo noi in forza al servizio, quindi è stato comunque montato un discorso che non è tutto corrispondente al vero e se ci sono stati dei problemi risalgono solo ed esclusivamente ad un ultimo circostanziato periodo, insomma di 10, 15, 20 giorni, voglio dire, niente di più. Assolutamente no, guardi, noi siamo comunque soggetti per organizzazione aziendale, organizzazione tecnico-professionale a stabilire dei turni, cosa che abbiamo fatto e concertato in assoluta tranquillità anche con la signora in riunione pre-inizio cantiere, abbiamo discusso dei turni e la signora ha accettato senza remore alcune, senza rimostranza, il servizio e il turno assegnato. È ovvio che poi anche i colleghi hanno organizzato la propria vita lavorativa in base a quelle che erano state le nostre esigenze, dettate comunque dalle organizzazioni tecnico-operative dell'azienda e quindi poi a parte il breve periodo di agosto nel quale gli è stato concesso il cambio turno non abbiamo ritenuto opportuno andare oltre, andare a stravolgere quelle che potrebbero essere state gli orari di colleghi che comunque svolgono il suo stesso servizio ma che magari per sbarcare il lunario si adoperano e svolgono altri lavori umilmente, insomma quindi cosa che pensiamo avrebbe potuto fare la signora tranquillamente senza nessun tipo di problema. Quindi non è stato possibile fare cambi turni ma è stato più volte più volte spiegato alla signora, spiegato agli assistenti sindacali, al rappresentante legale con i quali abbiamo sempre ed esclusivamente avuto un rapporto di cordialità in massima apertura. Lo si evinge dal fatto che ad oggi non abbiamo nessuna comunicazione ufficiale ma le comunicazioni intercorse anche con il dottor Brogno sono solo ed esclusivamente telefoniche quindi in maniera del tutto informale e poi venire a conoscenza di tutta questa storia a noi ci dispiace perché comunque il caso drammatico rimane ma assolutamente non è stata montata una vicenda che non corrisponde al vero, che comunque non fa luce sulla verità, sulle problematiche serie che ci sono nel nostro territorio ma che comunque non corrispondono nella maniera specifica a verità. Testante non solo che abbiamo pagato regolarmente ma come giusto non abbiamo fatto nulla di straordinario perché è giusto che sia così, il lavoratore per noi è una risorsa, una risorsa d'azienda ma è una persona prima di tutto e va rispettata come persona. E' chi viene a lavorare per 300 euro ma non lo stabiliamo noi, è quello che il contratto prevede perché noi ricordiamo che è un subentro ad un altro appalto quindi voglio dire per tutelare il proseguo del lavoro abbiamo preso la signora alle stesse condizioni contrattuali delle quali le abbiamo trovate, le abbiamo solo ed esclusivamente fatto il nostro, pagare correttamente gli stipendi mese per mese, tredicesima mensilità, quattordicesima, tutto quello che gli aspettava ma è giusto che sia stato così. L'ultimo periodo però la signora non è stata diciamo voglio dire giustamente, è stata sospesa dal servizio perché la signora dice di aver lavorato con noi ma a noi risulta che dopo un breve periodo di settembre dal 25 in poi e un breve periodo di comporto di malattia la signora a tutt'oggi risulta assente ingiustificata con comunicazione che le abbiamo inviata perché comunque adesso non riusciamo nemmeno a stabilire un contatto telefonico con la stessa ma per giusti motivi ma comunque abbiamo sempre ottemperato i nostri doveri verso la dipendente.